Nessuno di noi ha esperienza nel governare una città eccetto lui. Vuoi dimostrare di essere utile per la regina? Dimostralo qui a Mirin. Perché dovrebbero ascoltare un nano straniero che parla appena la loro lingua? Non lo faranno. Ascolteranno Verme Grigio. Io vengo con voi e troverò la regina. Non sei nelle condizioni di muoverti. Lo sono. È l'uomo senza palle più forte che abbia mai conosciuto. Tuttavia non puoi venire. Il popolo crede in te. Sa che parli a nome della regina. È vero. Gli immacolati possono mantenere la pace a Mirin. Se vai via in città combatteranno gli uni contro gli altri. E Missandei. La nostra regina ha la massima fiducia in Missandei. Di certo non in me.